Le bar dips sono un'interessante variante delle dips alle parallele. Segui queste indicazioni per eseguirle bene. Le scapole sono sempre depresse, quindi spalle lontane dalle orecchie durante tutto il movimento. Non incassarti scendendo così. Il bacino deve scendere sotto la sbarra. La sbarra deve avvicinarsi alla parte alta dell'addome. Bilanciati leggermente in avanti con il petto per poter avere una traiettoria verticale quando sali. Utilizzali nel tuo workout per poter cambiare stimoli rispetto alle classiche dips alle parallele e di conseguenza petto, spalle e tricipiti. Oppure per mettere delle buone basi per quella che è l'ultima parte del muscle up.